E' morta Marisa Leo, la conoscevi, lascia una bimba di 4 anni, una morte assurda per mano del suo ex compagno, del papà della piccola. Si dice che la donna sia stata attirata proprio in quella zona così lontana, a Ciavolo di Marsala, per riprendersi la piccola. Che idea dobbiamo dire ai giovani che hanno assistito a questa tragedia? Cosa è importante sottolineare secondo te? Questo che è accaduto, io Marisa lo conoscevo già da tempo, so che donna era, una donna molto determinata, lo stava dimostrando anche lavorativamente parlando. Una mamma che si è sostituita anche a un papà con la bambina, quindi cercava di compensare totalmente questa diatriba che magari c'era col marito. Non so se erano sposati o erano compagni, però comunque poco cambia. E quindi lei cercava di compensare totalmente anche determinate mancanze. Chiaro è che ha coinvolto tutta la comunità marsalese, ecco che da lì dobbiamo ripartire, dobbiamo capire che è un momento dove bisogna dire veramente basta. E non tanto ricordare la classica data annuale. Secondo me oggi la città di Marsala deve reagire e sarà intenzione mia, ora vediamo, essendo che era un'amica della compagnia, ecco quindi cercherò di coinvolgere molti giovani per fare una manifestazione, per sensibilizzare i giovani, vediamo con le scuole. Cerchiamo di darci da fare, non piangerci addosso. Ormai è successo, ci saranno le indagini per capire come mai è successo, ma non compete chiaramente noi cittadini. Io da una vostra intervista ho appreso che c'era questo centro antiviolenza e so che hanno un po' di difficoltà anche con delle sedi, per potersi inserire anche sul tessuto sociale, perché avendo anche una sede è chiaro che è facilmente riconducibile, si può avvicinare, ecco possono avvicinare queste mamme che hanno questi problemi in maniera riservata, si crea un team di psicologi, ecco forse è arrivato il momento di dare anche un supporto a chi già oggi in maniera di volontariato si presta a dare una forza a queste donne, ma anche a questi uomini che hanno questo dramma nella propria vita. Il Consiglio Comunale si attiverà per aiutare il centro antiviolenza, in questo caso la Casa di Venere, e altre associazioni che promuovono la cultura contro la violenza di genere e la violenza assistita? Assolutamente sì, è il nostro compito, noi abbiamo questo compito, abbiamo il compito di supportare tutte queste bellissime iniziative, anzi invito a questo punto a queste associazioni antiviolenza di avvicinarsi, creare un dialogo, anche un tavolo insieme all'assessore alle varie opportunità, con le istituzioni, e cercare una sede e dare a loro tutto un supporto perché poi hanno ricaduta sulla società.